ho fatto un provino a Reggio Emilia da un produttore che aveva uno studio grande mi ha detto che ci do una base musicale con la fisarmonica, tu ci fai il testo sopra ed è nata tu e fattu in 2001 r. ho trovato un profeta, che dice che ci diamo un'applicazione e tu scrivi un'applicazione e abbiamo fatto un'applicazione e abbiamo fatto un'applicazione e abbiamo fatto un'applicazione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti